Ben trovati, oggi la discussione avverte su Angelo Vassallo. Intanto vi ricordo che bisogna sempre fare affinamento su chi realmente espose il territorio come la BCC di Iacquara, che è una banca di riferimenti ormai nazionali e che opera per il territorio in maniera integrale. L'abbiamo detto più volte, ve lo ripetiamo sempre perché riteniamo l'opportuno ricordare realmente chi si pone per il territorio. Detto questo, io credo che Angelo Vassallo fu ammazzato il 5 dicembre del 2010 ma viene continuamente ammazzato, quasi ogni giorno. Innanzitutto perché ancora non si è scoperto chi l'ha ucciso anche se i nove avvisi di garanzia arrivati a nove persone nel luglio scorso fanno ben sperare anche sulla scena di quelle che sono state le inchieste delle Iene e che hanno dunque fatto arrivare il messaggio chiaro e inequivocabile alla procura e agli inquirenti. Ma purtroppo Dario Vassallo muore continuamente perché il suo nome viene costantemente secondo me utilizzato e strumentalizzato per fini personali e questo è molto molto grave. negli ultimi giorni, il 3 settembre e il 5 settembre a Ciaroni dove è stato ammazzato appunto Angelo Vassallo, un giorno poi vi farò anche la storia del rapporto che io avevo con Angelo Vassallo perché è molto molto significativo. Dicevo che il 3 settembre hanno fatto la marcia per sapere chi ha ammazzato Vassallo e l'ha organizzata Dario Vassallo, fratello di Angelo Vassallo. Il 5 settembre, un'altra manifestazione organizzata dal sindaco di Pollica, colui che ha sostituito Vassallo, diciamo l'uomo scelto da Vassallo, il quale ha premiato un giovane sindaco di Bacoli, c'era il sindaco di Napoli, c'era Dario Cambiente, c'erano tanti sindaci, c'era Afonso Antria e quindi però non c'era Dario Vassallo. Hanno fatto due manifestazioni perché ora lì si sono totalmente spaccati. Nella manifestazione del circo c'era anche la povera vedova di Angelo Vassallo e uno dei fratelli, l'altro fratelli. È bene dire una cosa molto significativa ma in maniera negativa. Dario Vassallo, oggi candidato per il Movimento 5 Stelle, ha cercato da oltre 7-8 anni la candidatura nel Partito Democratico, partito che al momento dell'uccisione era il partito di Angelo Vassallo il quale aveva già militato anni in altri partiti, i Verdi, l'Udc, con il quale era stato grande candidato all'elezione provinciale. Angelo Vassallo era un grandissimo amministratore, il più bravo, in sé di assoluto, uno che faceva del pragmatismo, della praticità, del fare i suoi cavalli di battaglia ed era uomo del popolo, era uomo di grandi messaggi, era uomo di filosofia, ma non lo diciamo ora che è morto, noi l'abbiamo detto in tv e scritto quando era vivo, quando lo intervistavamo, quando ci sentivamo al telefono continuamente. Conosco bene Angelo Vassallo anche perché so cosa ha fatto per i sociali, per i deboli, per chi aveva bisogno, l'affetto che ha fornito. Lo so perché mi gusta personalmente, verificato personalmente. Bisogna mostrare questo, non è il mio rapporto con Vassallo la discussione di oggi. La discussione di oggi verte soprattutto sulla strumentalizzazione che si sta facendo del nome di Vassallo. È il fratello Dario Vassallo che da 7-8 anni cerca la candidatura del Partito Democratico, lo ha messo come strumento, lo ha utilizzato come strumento per arrivare alla candidatura. Questo facendo cosa? Buttando fango sul PD del Cilento, buttando fango su Franco Alfieri. Manco se Franco Alfieri c'entrasse qualcosa con l'omicidio Vassallo. Però lui ha fatto capire cose gravissime. l'ho scritto tante volte, potete andare a verificare. Cioè lui ha fatto immaginare, quando venne anche la Gambanelli ad intervistare Franco Alfieri, che quasi quasi dietro l'omicidio Vassallo ci doveva essere Alfieri, un gruppo di persone e tanto altro. Poi ha attaccato Adamo Coppola, sindaco di Agrom. Forse Adamo in Consiglio Comunale è uscita un po' poco piacevole, la fece, onestamente, anche in quel momento storico. Però ora il Partito Democratico, in primis, e Dario Vassallo, in secondo luogo, hanno per forza probabilmente perduto il loro cavallo di battaglia. Cioè l'utilizzazione della morte di Vassallo per meni scopi politici. E io l'ho scritto l'altro giorno. L'ho scritto in un articolo molto particolare. Perché io scrivo ancora tanto fango sul povero Angelo Vassallo, ancora strumentalizzazione sul suo nome. Dopo il Partito Democratico, ancora anche il Movimento 5 Stelle, si aggrega ad una strumentalizzazione politica senza precedenti, per un omicidio ancora risolto, ma la cui inchiesta sta per vedere la luce. Dopo gli avvisi di garanzia sono arrivati a ben nove persone il 3 settembre che si è verificata. Organizzata dal fratello Dario, candidato a guarda caso nel Movimento 5 Stelle, è arrivato Conte, Giuseppi Conte, il vero assassino di migliaia di persone, insieme alla Azzolina e Speranza. E con chi si è candidato? Dario Vassallo. Non con il PD, dove non gli hanno dato posto. Si è candidato con il partito fondato da un omicida, Beppe Grillo, nel quale c'è chi oggi viene accusato di un eccidio di massa come Giuseppi Conte. Perché nell'ottobre del 2020, aprendo le scuole, ha fatto lievitare, lui con la Azzolina e Speranza ha fatto reimpegnare il Covid. L'ho scritto tante volte, è arrivato ai 10.000 contagi il 4 ottobre del 2020, ai quasi 150.000 contagi del 20 ottobre, aprendo le scuole. Sono numeri che potete andare a vedere. E di lì è arrivata proprio la seconda ondata gravissima con l'apertura delle scuole. E non a caso l'Italia è quella che ha pagato il prezzo più alto del Covid, con la nazione che ha avuto più morti, con la nazione che ha avuto più danni economici. I provvedimenti presi da Giuseppi Conte sono stati devastanti per questa nazione. e Dario Massallo si è andato a candidare con questa gente, si è andato a candidare con persone che hanno sulla coscienza questi peccati. Io penso che Angelo Massallo si rivolta nella tomba, ma seriamente. Perché francamente quello che ha combinato Dario Massallo in questi anni, facendo passare per gente seria mandanti di un omicida, ora il giocattolo è finito, perché fra poco escono i nomi, no? Ci sono gli avvisi di garanzia. Uno è già in galera e fra l'altro si ritiene che sia quello più vicino all'omicidio. È finito il giocattolo. Gli hanno rotto il giocattolo sia a BD sia a Dario Massallo. Perché adesso che uscirà il reale omicida di Angelo, è finito il gioco di Dario Massallo di indicare l'ho ucciso qui, l'ho ucciso quell'altro, l'ho ucciso quell'altro e giocarci sopra. Ma come si può? Quello è un fratello. Come si può andare lontano dalla verità? Cioè depistare le indagini per scopi personali? Perché vuole fare l'onorevole. Intanto, nei Cinque Stelle, l'onorevole non lo farà, almeno in questa tornata elettorale. Perché i sondaggi danno il Cinque Stelle, diciamo, non idoneo a vincere il collegio dell'estate. L'evento il 3 settembre, organizzato appunto da Dario Massallo, ha portato Conte, Giuseppe Conte, ad Aceroli. Ma che ne sa Conte di Angelo Massallo? Ma non si vergognano! Non si vergognano! Non si vergognano! Dario Massallo, è lo scritto, ha utilizzato il nome del fratello ai fini elettorali e propagandistici. Una cosa gravissima. Lui ha detto che la marcia l'aveva prevista prima della sua candidatura. Sì, ma non aveva previsto la riuscita di Conte, però. Ammesso che fosse l'evento. Non vogliono finire, ad Aceroli, di continuare a strumentalizzare la morte del povero angelo. Che muore continuamente, muore ogni giorno. Muore su queste vicende. Guardate, Dario Massallo si candida nel partito di Bibiana. Vorrebbe candidare nel partito di Bibiana. Non lo accettano e si va a candidare in chi invece ha fatto politica contro il partito di Bibiana. Contro il PD. Quindi, proprio, scopi personali, chiarissimi. Il 5 settembre, Pisani, sindaco di Pollica e successore di Angelo Massallo, organizza il premio sul porto e annuncia naturalmente l'appoggio, non in quella circostanza, all'Uva Cascone del PD. Anche se, al momento in cui vinse, morì Angelo Massallo, lui era del CCD. Cioè, voi immaginate, che confusione, che barahonda. Invece di ricordare il nome tutti uniti, ci sono spaccati, per chi lo ricorda meglio, per chi fa la marcia, per chi fa il premio, ad Acciaroli, ma come gli abitanti. Cioè, ma ci rendiamo conto di cosa significa questo? Ci rendiamo conto della gravità del fatto. francamente, qui c'è da farsi le croci con la mano mancina. E in tutto questo, per 7-8 lunghi anni, Dario Massallo ha insinuato, su gente seria, su gente che fa politica seriamente, che potevano essere dietro la morte del fratello, senza avere una prova. Quando accusa le strade fantasme, è tutta un'altra cosa. Quella era un'accusa che ha fatto Angelo Massallo. E allora l'assessore provinciale di laurea pubblica era Franco Alfini. Ma era un'altra cosa. Andare a collegare questa cosa all'omicidio Massallo è stata una colpa, lo dico a Dario Massallo, imperdonabile. Ma il gioco è finito. Il giocattolo glielo hanno tolto di mano, perché fra poco esce chi ha ucciso Massallo. Perché l'inchiesta è a culpina. Le iene hanno lavorato bene. Ormai ci siamo. Ci sono nove avvisi di garanzia. Ci sono stati anche nel passato. Ma come questa volta? No. E allora finisce il gioco. E io mi chiedo a Dario Massallo cosa gli rimane. Cosa gli rimane questo Dario Massallo? Il problema è della moglie di Angelo, dei figli. Di chi realmente lo ha voluto bene. Non di chi ne sta strumentalizzando il nome. Perché francamente c'è chiedere una candidatura in nome del fratello morto per omicidio e non ottenerla. E andarsi a candidare in un partito fondato da un comico omicida. ma moralmente che messaggio è? Lo dico a Dario Massallo che sta facendo una figura di merda. Che messaggio è? Mi si faccia capire questo. Per quale motivo in questi anni Dario Massallo ha insinuato che il fratello fosse stato ammazzato da gente vicina a Franco Alfieri da Franco Alfieri Adama Popolo è messo in quel modo l'insinuazione è avvenuta la Cabanelli qua per rovinare vite senza sapere la verità dei fatti. E ancora si continua ma non può essere più consentito perché adesso devono scattare le denunce per Dario Massallo. Se ancora continua a fare queste affermazioni perché la giustizia sta arrivando è lenta ma arriva e si saprà chi ha ammazzato Massallo. E il giocattolo gliel'hanno rompendo a lui e al Partito Democratico a livello nazionale e chi ci sta facendo una demagogia esagerata su questa cosa. Io credo che bisogna vergognarsi ma realmente bisogna vergognarsi. L'ho scritto potete verificarlo anche sulla mia pagina quindi credo che bisogna mettere un punto su questa indecenza. Per quanto riguarda la candidatura di Dario Massallo nei Cinque Stelle il punto lo metteranno gli elettori che sarà bocciato. Come come tu lo lotti nove anni sette otto anni buttando fango per candidarti nel PD poi ti vai a candidare le Cinque Stelle non è perché vuole la candidatura o fa politica o fa politica ma l'ambizione va rispettata ci mancherebbe ma vanno rispettate anche le persone soprattutto quando c'è di mezzo un omicidio eccellente dove ha perso la vita il migliore di noi in senso assoluto il migliore di tutti ma non perché è morto ma perché è stato ucciso perché Angelo è il migliore di tutti io credo che dovreste finirla dovreste finirla di fare demagogia dietrologia strumentalizzazione perché Angelo non ve lo perdona grazie a tutti